Siamo una regione di culle vuote, con un trend di denatalità decisamente più alto di quello nazionale, addirittura più elevato delle altre regioni del centro Italia. La cicogna non vola più qui ormai da tanto, ma il fenomeno ha assunto ora carattere strutturale e cresce a ritmi preoccupanti. La conferma arriva dai dati forniti dall'Istat ed elaborati dall'IRES CGL. Nel 2017 nelle Marche sono nati 10.699 bambini, record minimo storico. Rispetto all'anno precedente sono venuti alla luce 813 bambini in meno, mentre nell'ultimo quinquennio le nuove nascite sono diminuite di quasi il 16%. Le marchigiane dunque non fanno più figli, ma diminuiscono ormai da diversi anni anche i nati da almeno un genitore straniero. Prosegue anche la tendenza alla diminuzione della fecondità. Nel 2017 il numero medio di figli per donna nelle Marche è sceso a 1,25, inferiore sia alla media italiana che a quella delle regioni limitrofe. In contrapposizione a crescere sono invece i decessi. Nel 2017 18.449 è quasi il doppio delle nascite e coloro che lasciano le Marche per l'estero, quasi 22.000 persone negli ultimi cinque anni. Insomma, a tirare le somme, la popolazione marchigiana a fine 2017 ammonta a 1.531.753 abitanti, conti alla mano e come se in un anno fosse sparito un comune come Pergola e in un quinquennio una città come Recanati.